Benvenuto Roberto, grazie di essere con noi. Per il terzo anno la stagione televisiva Rai punta su di te e sul tuo show. Questo appuntamento è benaugurante anche poi per il resto dei mesi a venire? Beh, io sono molto contento innanzitutto di tornare per la terza volta a inaugurare l'anno con Rai 1, prima serata e quindi con tutto il pubblico italiano. Credo che sia benaugurante per il pubblico, per me, ma benaugurante perché la danza comunque è un'arte molto alta, molto bella, parla di bellezza, di poesia, di magia, quindi è un bel messaggio, è anche emblematico inaugurare la prima serata dell'anno del punto di Rai 1, della testata principale del servizio pubblico con uno spettacolo così alto che parla di tanta bellezza e cultura. Certo. La narrazione del tuo spettacolo passa anche attraverso il racconto di tanti ospiti. Raccontaci i cantanti, gli artisti in ambito musicale che porti con te nel tuo mondo e ti lasci anche un po' contaminare da loro. Sì, 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 abbiamo tanti ospiti in generale veramente di ogni campo perché veramente da Benini, Virginia Raffaele, Luca Zingaretti, Luca Paolo, Geppi Cucciari, Giampaolo Morelli, in ambito musicale in particolare abbiamo quattro ospiti, due che sono Bollani e Bocelli che interagiscono e balleremo tutti insieme, io accompagnato poi da Nicoletta Manni con appunto Bollani al piano e Andrea Bocelli che canta e Nina Zilli per un momento di omaggio alla tv degli anni 60 e a Studio 1 e Marrakesh per un momento invece è pensato con l'Accademia, una musica che è opposta, è molto lontana dal balletto classico che trova in realtà un punto di incontro e quindi ospiti veramente molto diversi, amati anche da un pubblico molto diverso e questo è molto importante perché Marrakesh porta un pubblico giovane e proprio di ragazzi che ascoltano questa musica e che lo adorano, che è un pubblico diverso da quello di Nina Zilli, da quello di Bocelli, quindi cerchiamo di unire veramente e di andare incontro ai gusti, alle passioni di ogni tipo di pubblico, quindi non tutto quello che mostriamo e diciamo per un pubblico tipologia di Rai 1, però è bello avere anche un insieme che sia inaspettato, inusuale che possa essere una sfida non solo per noi ma per tutti. Dal punto di vista proprio artistico di un danzatore come sei tu, la contaminazione e l'incontro tra linguaggi differenti come può essere appunto quello con il rap ad esempio, che valore aggiunto dà anche alla tua carriera, all'entusiasmo del fare arte? Per me devo dire molto importante avere sempre delle nuove sfide, mettermi anche sempre in gioco e lo dimostro credo in ogni edizione, oramai il pubblico è anche abituato a vedere quanto io mi metta in gioco provando anche degli sketch, magari anche provando a cantare, a condurre, a relazionarmi con altre tipologie di teatro, di parola che non sono le mie, però voglio dire, secondo me è molto importante, mi piacciono le sfide, questa di Danza con me è sicuramente una sfida e mi piace mettermi in gioco e credo che sia importante per anche far sì che il pubblico a casa mi senta più vicino non mi veda distante soltanto ballare il Bayadero, un balletto classico, degli eroi che appartengono al balletto romantico neoclassico più contemporaneo, ma mi senta più vicino a loro e in questo lo faccio facendo anche cose che mi rendono magari più simpatico con autoironia e così insomma si riesce a creare una formula che secondo me è quella perfetta e quella giusta per portare veramente quest'arte a tutti in qualche modo apri l'uscio di casa anche nell'anno nuovo nelle famiglie Sì, e devo dire che questo momento proprio di entrare nelle case di tutte le famiglie è un momento molto importante una responsabilità molto importante e se posso dire credo che si stia anche cambiando il modo di percepire la danza il cambiamento culturale che abbiamo iniziato alcuni anni fa e che è iniziato con gli spettacoli in teatro continuato con la televisione e con questi spettacoli show televisivi in prima serata a Capodanno sta veramente cambiando, sta avendo un'importante accelerata quindi le persone iniziano a voler vedere questo spettacolo a chiedere se ritorna, se c'è, bene c'è, quindi il primo gennaio tutti davanti alla televisione Hai citato l'ironia come ingrediente dello spettacolo ma ci sono almeno due momenti di grande intensità due focus legato all'ambiente e legato a quello che tu definisci la compassione, compassione umana un compathos, no? Esatto, esatto, perché come giustamente detto c'è l'ironia ma c'è anche una volontà di guardare la realtà e il mondo in cui viviamo il tema dell'ambiente è un tema fondamentale di grande attualità abbiamo voluto mettere in scena un countdown da adesso al 2030 che chiaramente nel nostro spettacolo va molto più veloce perché dura il tempo dell'esibizione perché il 2030 è la data di non ritorno entro la quale bisogna agire concretamente per non far, diciamo, affinché l'umanità riesca a sopravvivere e ad avere un futuro le decisioni e le azioni vanno fatte entro quella data quindi mi vedrete ballare sotto un telo di plastica che all'inizio è meraviglioso ma alla fine arriverà a soffocarmi l'altro tema, quello della compassione, vedrà delle immagini molto forti proiettate su dei teli immagini di migranti, di conflitti, immagini di violenza sulle donne tutte queste immagini sono immagini che noi anche quotidianamente vediamo e davanti alle quali spesso passiamo indifferenti quindi in questo caso provocheranno una reazione in me molto forte questo per dire quello che ritrovare l'umanità che queste immagini la compassione che queste immagini devono suscitare non rimaniamo indifferenti quindi cerchiamo di andare e di scoprire, di riscoprire queste emozioni dentro di noi siamo troppo assuefatti da tutto quello che viene buttato addosso a noi però bisogna riscoprire l'umanità e anche in questo show, che è uno show di danza attraverso la danza riusciamo a parlare non tanto dei temi ma quanto delle emozioni che suscitano in noi grazie grazie grazie